Salve a tutti ragazzi, allora questo non è il classico video che carico io su youtube, di solito o carico partite intere o faccio dei mini montaggi su cose precise Questo sarà tipo un game commentary, però riferito solo alla bot lane, quindi i principali due che andremo a vedere, anzi la principale persona che andremo a vedere è questa Miss Fortune Questa Miss Fortune è giocata da un ragazzo, ragazzo, è un, sì dai, diciamo ragazzo di 12 anni, ok? Spiderò il video su questi pezzi inutili, quindi per ora metto un per 8 Qui tanto al momento eravamo indecisi se invadere o no, poi abbiamo deciso di non invadere Qui inizia la parte della lane, io gli ho detto di aspettare il livello 3 E però Sona è stupida, quindi io mi sono messo là, lei ha usato Flash Heal Cioè, lei ha usato il Flash Heal, ha usato gli Heal E poi niente, abbiamo continuato per un po' in questa maniera Qui abbiamo fatto un fight, sono esplosa Ma niente di che, qui ho continuato E ho fatto fuori Heal Va bene, in tutto ciò io ho insegnato Insegnato, diciamo che mi ha dato retta dal primo momento e stavamo tranquilli Ho dato dei piccoli consigli a questo ragazzo E da 100 minion che faceva ogni 20 minuti Adesso ha una media di 80 minion Ogni 10 minuti Quindi va bene Allora, rispediamo un pochino Allora, qui noi siamo in vantaggio Abbiamo due kill di vantaggio Gli ho detto, ingaggiamoli E Sona esplosa di nuovo Qui non succede niente di interessante Perché Edra riesce ad allontanarsi Un'altra cosa molto importante È non pensare a cosa succede nell'altra lane Perché una volta che pensi No, le altre lane hanno perso Perdi la concentrazione della tua lane Qui Sona continuava a esplodere E qui inizia la parte divertente Perché arriverà Shaco Ovvero, appena tornano Edrael e Sona Arriverà Shaco Noi adesso ricogliamo Ok, poi torniamo in lane Spediamo Ok Qui posso mettere a 1 Allora Vediamo un po' cosa succederà di bello adesso In teoria Sona si avvicinerà per provare a ingaggiarci Miss Fortune mi fa sapere appunto che ha la R Io ho la ulti app Qui ho missato la E Allora Se non missavo quella E avremmo già ingaggiato Ma Sona adesso fa una cosa stupida Ovvero Si mette lì Ok, ha flashato Morto Edrael E è morta Sona Qui il flash di Miss Fortune si poteva evitare Magari non prendevamo la kill su Sona Ma pazienza Adesso pushiamo un pochino Ma qui ormai avevamo un vantaggio enorme Quindi Pazienza Ok Pusciamo la lane Ricogliamo Io però gli dico Di restare nel bash Perché? Perché Sona non sa che siamo qui Ok Sona ha usato la ulti a vuoto per scappare Edrael non l'ha calcolata Miss Fortune qui si è posizionata male Ma è accettabile Perché tanto Se Edrael si avvicinava per finirla Moriva E io ingaggio su Sona Sona è morta Edrael invece riuscì ad allontanarsi Noi adesso in teoria Ah no Qui riusciamo a farci un'altra kill Ok No Perché ha usato l'eal Ok Flash heal di Edrael Quindi è morta Adesso ricogliamo E torniamo di nuovo in lane Qui forse è il pezzo dove c'è Il nostro amico Shaco Che viene E infatti Qui c'è Shaco che si mette nel bash Io mi avvicino Non sapendo che c'è Shaco Abbiamo messo due ward Io ho continuato a hittare su Shaco E' partita la ulti di Miss Fortune Che ha regalato questa doppia E Shaco invece se n'è andato Perché ormai aveva pochissime HP Se rimaneva probabilmente facciamo una tripla Ok Adesso ci pusciamo veloce la wave Ci facciamo una parte data E la ricogliamo Ok Miss Fortune torna in lane Però sta senza di me Ok Adesso ci sono anch'io E Shaco Se n'è andato Miss Fortune mi dice che ha la Wilti up Io quindi Ne approfitto Faccio la torre Stanno a Edral Che però riesce ad andarsene Ok No perché si è fermato E Sona prova a uccidermi Cioè Sona qui Se non provava a uccidermi Si salvava Invece è tornata indietro Mi ha flashato in faccia Per provare a uccidere una leona Ok Qua ricogliamo Io gli dico di andare mid Perché tanto la botta Non ormai l'avremmo vinta E qui Iniziano a succedere un po' di problemi Perché è arrivato Veigar E non sapevo che quell'urgo Tancasse così tanto Anche perché come oggetti Non aveva granché Aveva solo resistenza magica Però non riuscivamo a buttarlo giù Cioè nonostante Miss Fortune Facesse un danno disumano Urgot non andava giù Adesso però succede una cosa divertente Ovvero C'è Mumu che ingaggia Io so che prende il primo tornado Ma tanto stanno sotto torre Quindi era inutile andarci Io e Miss Fortune Stavamo aspettando semplicemente le ulti Appena Ne avremo la possibilità Praticamente sfrutteremo un tornado Di Asuo Per bloccarli poi con la mia ulti Esatto E poi la ulti di Miss Fortune E così abbiamo vinto il teamfight Hanno ucciso me In cambio di Sona Quindi un support per un support Un support e un carry Va benissimo Qui a Mumu ha fatto un po' una cavolata Però Ci poteva stare Ok Torniamo di nuovo a speed die Qui prendiamo la torre E poi io propongo a Miss Fortune di recolare Quello muore Qui succedono cose random E qui parte un altro fight Sempre stesso modo La mia ulti Il tornado di Asuo E la ulti di Miss Fortune E Diciamo che è una combo devastante Cioè una volta Se c'era anche la ulti di Mumu Praticamente era ancora meglio Qui ho missato una re Non so neanche io come ho fatto Edra ha esploso Yasuo E io qui dico di prenderci quella dannata torre Ingaggio su di lui E la esplosione della W Ci dà la kill Arriva Sona E esplode anche lei Allora Io propongo una cosa adesso Di fare torre inibitor e baron O forse No E' quello dopo Ok E' l'ingage successivo Qui loro si puliscono la wave E se ne vanno Allora Io adesso chiamo il baron Gli avversari non se l'aspettano E' quella parte divertente Ci facciamo il baron E abbiamo preso il baron A gratis Perché gli avversari Non si aspettavano il baron Poi andiamo al drago Anche questa è una buona call E abbiamo il primo drago Per prendere l'inibitor Ok qui aspetta Devo rallentare Ok Qui io ci ho provato Cioè L'intento era Quello di Dai Varly Se morivo io fa niente Prendevamo due inibitor Ehm Però Ho sbagliato a fare un calcolo Ovvero che Miss Fortune È morta insieme a me Questo non doveva succedere Qui adesso In teoria Vanno back I nostri alleati Vanno back Qua Noi ci Abbiamo bloccato Sona Ha morto Urgot Perché Sona Se si mette lì a curare Urgot Urgot Non lo tiriamo giù Ok Abbiamo preso Urgot E adesso Possiamo prenderci Un'altra torre Io ho la ulti Qui mi salvo Con pochissimi HP E Yasuo invece È rimasto lì A Farsi fregare Da vega Ok Qui prendiamo L'inibitor Perfetto Qui un paio Di morti Stupide Perfetto E intanto Stiamo tornando Io a Miss Fortune Perché Perché io ho detto A Miss Fortune Infatti Red buff Che poi ci facciamo Il Baron E Yasuo Andrà a farsi Il drago Quindi Prendiamo un altro Vantaggio Abbiamo Carrellate Di super minion Col Baron Cioè E Wart Tanto loro Devono difendere La base Ok E noi ci facciamo Il Baron Nel mentre Ok Adesso Gli entriamo In base Col Baron Con tre Carrellate Di super minion E niente È Finita qui Perché Gli abbiamo Esplosi male Quale errore È stato Di Sona Che non ha Messo neanche Una ward Sulla mappa E invece Noi tenevamo Il controllo Almeno sul Drago Il Baron Ed è finita Così La partita Abbiamo vinto E ovviamente Non erano A Ranked Ragazzi Grazie